Siete qui. Quello che vi offro è una riflessione molto fresca, appunto inedita. Ho appena consegnato il dattilo scritto di questo libro. È un libro dedicato a ideologia. Allora, si dirà tema vecchio, tema facile. Vecchio perché le ideologie sono morte, secondo una volgata, volgare e sbagliata. Tema facile perché dell'ideologia sappiamo tutto da sempre. Vero niente. C'è effettivamente una grandissima letteratura sull'ideologia. Nel mondo anglofono sono nati gli ideology studies, ma imitare che non levino un ragno dal buco, perché sono tutti concentrati, come spesso succede, sui contenuti. Cioè inseguire l'ideologia, tentare di capire l'ideologia a partire dai contenuti dell'ideologia è impresa disperata, perché basta avere un po' di buon senso, come il senso importante di questi studiosi, che sono poi degli storici, Michael Frieden, per accoglierci che i contenuti sono sempre quelli. Cioè è un gioco combinatorio tra pochissime riabili. Mentre per tentare di capire che cos'è l'ideologia bisogna fare un certo sforzo, uno sforzo che è sostanzialmente quello di capire qual è il rapporto tra il pensiero e ciò che è pensato. E le cose cambiano. Io comincio, seguo grosso modo la traccia del libro. Il libro comincia con Joseph Goebbels, che era, reggeva il Reichsministerium für Folsaufklärung, una propaganda fedele ad alcuni cattivi maestri, credo che nell'estremo si capisca meglio qualunque fenomeno. Qui siamo palesemente davanti a un estremo, e un estremo che ha il valore e il significato di rendere chiaro che cos'è l'ideologia. L'ideologia è fatta di illuminazione, propaganda e cultura. E questa è la struttura di l'ideologia. Non abbiamo detto che sia il funzionamento, non abbiamo detto che sia l'origine, che sono cose diverse. Questa è la struttura. è una struttura che ha a che fare in realtà con la dialettica tra soggettività e oggettività. perché Folsaufklärung significa sostanzialmente che tu hai una soggettività che indaga, critica, cioè un punto di vista. Questo è il punto di vista. hai una soggettività che indaga e getta luce sull'ombra per rischiarare il mondo. Dall'altra, al tempo stesso, non in tempi diversi, al tempo stesso hai la oggettività, cioè hai la costruzione di un mondo non più critico, né criticabile. Cioè hai un progetto e dunque hai una funzione mobilitante, destrutturante e al tempo stesso una funzione oggettiva. E poi l'obiettivo è costruire una cultura, cioè diciamo una bolla dentro la quale ci si muove. Per voi soggettività, oggettività, bolla. diretti ma questo è roba da nazisti. No, i nazisti sono i contenuti, ovviamente nel caso di Joseph Goebbels, ma non vi è ideologia che non funzioni in questo modo. La cosa più importante è che c'è una luce che è il lumino. senza questo non comincia il discorso ideologico. E questa luce è un cono che ha un'origine non illuminata. Ovviamente. Cioè il punto di vista è un punto di vista a partire dal quale tu guardi avanti. ma nessuna ideologia è in grado di guardare se stessa. Quando un complesso di pensiero guarda se stesso non è ideologia, è filosofia. Non perché la filosofia sia libera da condizionamenti, ma perché li conosce. Mentre l'ideologia non ne vuol sapere. anzi, l'ideologia è un soggetto incondizionato. Dunque l'ideologia è al tempo stesso illuminante, accecata su se stesse, poi se la luce è troppo forte è pure accecante. Nega il mondo com'è, afferma una verità che al momento non c'è e adesso vediamo perché. Perché anche questo è un altro elemento strutturale fondamentale. Chi ha reso indispensabile? Perché è indispensabile l'ideologia? E chi l'ha resa indispensabile? Secondo l'ideologia e non secondo me. Secondo l'ideologia l'ideologia è l'atto illuminante indispensabile perché qualcuno o qualche cosa o una struttura ha reso il mondo opaco. L'atto dell'illuminare è reso necessario da un precedente atto di oscuramento. E chi ha oscurato o che cosa ha oscurato? Beh, ne parliamo. Le ideologie sono diverse su questo ma certamente in tutte c'è l'idea del nemico. Quello che ha fatto la magia nera che ha oscurato che ha lanciato il nero di seppia sul mondo è quello il nemico. Nel caso di Goebbels è inutile che gli stia a dire che cosa pensavano questi ma in realtà ogni ideologia ha la capacità di individuare un evento una struttura un processo una classe qualcosa contro cui cominciamo a vedere che dentro l'ideologia c'è un bel mucchio di cose c'è la soggettività l'oggettività l'inimicizia e naturalmente la contorcia l'amicizia noi siamo tutti quanti dentro la stessa bolla dopo che la propaganda ha fatto il suo effetto siamo tutti certi e produciamo sapere tutto in termini a un determinato modello il che ci affratella ci unisce abbiamo il mainstream dunque abbiamo la critica la propaganda e il mainstream la lotta nella prima fase molto violenta devi criticare e al tempo stesso devi contrapporre a ciò che hai criticato qualche cosa di contrario ostile adesso devi contrapporre in quel momento sei soggettivo e oggettivo sei una parte sei una parte che sta scoprendo di poter essere tutto e lo proclama ad alta voce la propaganda poi quando la lotta si è conclusa vittoriosamente dentro quel tutto si produce un discorso appunto un discorso protetto un discorso che potrebbe non avere più nemici tranne che sarebbe bene essere sempre in guardia e andare a cercare se davvero i nemici sono stati eliminati del tutto se per il caso qualcuno coltiva in cuor suo cattivi pensieri il meccanismo è soggettività propaganda logos illuminazione soggettiva punto di vista oggettività nuova scoperta dell'oggettività non l'avevo mai vista questa cosa ma guarda non me ne ero mai accorto la luce che emana dall'ideologia mi cambia il mondo e poi parte il logos siamo tutti felici sempre però con qualcuno che deve custodire allora se siete stati attenti e se sono stato chiaro vi ho detto qualche cosa che ha a che fare con l'ideologia e con Goebbels ma anche a che fare con la caverna di Platone ecco la difficoltà di parlare di ideologia che non sai mai di che cosa stai parlando perché quello che vi ho detto punto di vista soggettivo che illumina critica propaganda oggettiva vi faccio vedere un mondo nuovo costruzione di un logos all'interno di questo mondo nuovo questa roba qui la fanno anche i filosofi non c'è bisogno di essere Goebbels però io non sostengo che Platone e Goebbels sono uguali non sono non sono mica Carl Popper come dicevo l'altra sera Catania preferirei morire piuttosto che dire una cosa del genere però è vero che c'è una struttura che va molto finemente sezionata perché altrimenti si dicono sciocchezze altrimenti si dice si fa la bossa tipica di chi non ne vuole più sapere che dice io ho una dottrina tu hai un'ideologia quello io dico la verità tu sei un mentitore o come diceva Raimondo Aron ideologia sono le idee dei miei avversari che è detta bene è detta bene però fotografa una ovvietà e invece bisogna riuscire a scioglierlo questo questo problema soprattutto soprattutto la cosa che dovete assolutamente assorbire è che dentro l'ideologia c'è tanto l'azione quanto la coazione anzi questo pensiero che non può fare a meno di essere polemico questo pensiero di parte che vuole essere tutto questo pensiero che ha dentro di sé come obiettivo la costruzione di un mondo che non lo smentisce questo pensiero che sembra la grande produzione della soggettività cioè la grande azione in realtà è una coazione esso stesso è tutta una coazione questa noi non siamo siamo stati messi al mondo noi occidentali per ragionare in questo modo non possiamo non ragionare in questo modo comunque la geria con un grado superiore o inferiore di consapevolezza o anche con zero consapevolezza noi quando siamo dentro l'ideologia siamo a contatto con la fondamentale coazione del modo d'essere dell'Occidente cioè noi stiamo facendo metafisica anzi la metafisica sta facendo noi per la precisione cioè siamo dentro un movimento da cui non ci possiamo liberare come vi dicevo l'unico modo per liberarsene l'unico modo per liberarsene è dire semplicemente non è vero io sono fuori da questo movimento io ho il punto di vista oggettivo dentro l'ideologia ci sarai tu io no voi capite la lotta intorno all'ideologia l'ideologia adesso lo vedremo quando arriveremo alla parte storica la lotta per l'ideologia è un continuo rimbalzarsi da una forma di pensiero all'altra dell'accusa di ideologia cioè da rimanere stupefatti cioè sono come dei bambini che si fanno i dispetti l'unico gli altri la coazione è quella la coazione è che nessuno può uscire dal meccanismo di illuminazione soggettiva demonizzazione dell'avversario costruzione attraverso la propaganda dell'universo finalmente pacificato e tutti si dicono la stessa cosa per uscire per smettere di pensare non sto dicendo che la filosofia finora ha pensato il mondo è ora di cominciare a cambiarlo perché questa è una cosa che è stata detta ma l'aveva detta prima Hegel e l'aveva detta chiunque abbia mai fatto il filosofo ha fatto il filosofo per pensare il mondo sapendo che mentre lo pensavo o lo cambiava o preparava gli strumenti per cambiare no per uscire dall'ideologia non si può dire altro che smetto di parlare smetto di pensare e agisco questo è attenzione agisco non per applicare un'idea non per illuminare il mondo agisco per l'azione agisco come pura perfetta immanenza irriflessa immediata è un prezzo molto alto è un prezzo molto alto è praticamente impossibile destrutturante ogni forma di ordine social altrimenti ci dobbiamo tenere l'ideologia e soprattutto a questo punto la grande fatica è e qui anticipo moltissimo quello che poi dirò la grande fatica è convincere anche quelli che dicono che loro non ce l'hanno l'ideologia ma che sono oggettivi che non è vero non perché noi siamo più bravi migliori più acuti non è vero perché è impossibile allora che andare a spiegare al mainstream che è ideologia anche la sua è non è né semplice né indolore per chi ci trova quando si esce su un giornale si vede sul giornale principale italiano Putin l'ultima ideologia insomma è un problema perché nel momento in cui lo dici nel momento in cui lo dici stai facendo ideologia e per carità è obbligatorio sei coattivo a questo ma se la sua è l'ultima ideologia la tua che cos'è è l'ultima che cos'è quando è ideologia anche dire che più due fa forte dato che esistono infinite possibilità di matematica alternativa quando il ministro degli esteri segretario degli stati degli stati uniti dice i cinesi si rifiutano ai nostri valori universali è veramente il canto dell'assurdo si rifiutano ai valori nostri universali questo è un'esplosione di ideologia fare un discorso su ideologia è fare un discorso di filosofia teoretica di filosofia politica e di prassi politica se quando il mio libro se ne accorge vedremo dentro il ideologia c'è la guerra cioè c'è il nemico tra la soggettività e l'oggettività l'oggettività data che va smontata da una soggettività un'oggettività nuova che va creata dunque c'è ripeto azione e coazione critica e chiusura le ideologie storiche le ideologie storiche non funzionano come ve l'ho detta adesso una vera ideologia quello che ho detto adesso è lo scheletro dell'ideologia la sostanza storica reale di un'ideologia è contiene questo scheletro assolutamente ma ci mette intorno della polpa senza la quale l'ideologia non funziona è morta e questa polpa sono le passioni e gli interessi perché non si può fare ideologia dicendo le cose che vi ho appena detto si fa ideologia non dicendole facendole e soprattutto mettendoci dentro vita mettendoci dentro una proiezione all'azione che non viene dal ragionamento una proiezione all'azione che viene da paure speranze passioni potenze e il che rende l'ideologia qualche cosa di solito non lo schema che vi ho fatto ma ne fa